Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di ostriche, come aprire le ostriche. Su YouTube ci sono tantissimi video su come aprire le ostriche. Il problema è che quando noi siamo in vacanza, come nel mio caso, che sono qua in Puglia, non abbiamo mai gli attrezzi giusti. E quindi oggi vedremo come aprire le ostriche con un attrezzo simile a questo, un semplice coltello da cucina. Qua addirittura con la punta arrotondata. Potete farlo con anche altri oggetti, per esempio un cucchiaio. Provate perché il metodo funziona, ma adesso lo vedrete. Detto questo, io non voglio tirarvi oltre, quindi pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. Bene signori, eccoci qui con le nostre ostriche e con il nostro coltello con la punta arrotondata. Se voi guardate un po' di video su YouTube, sull'apertura delle ostriche, vedrete che anche lo chef cracco vi dice che si aprono da qui. Lo vedete? C'è questa piccola fessura, si inserisce un coltello, in quel caso un coltello a punta è anche bello spesso, e si fa forza per aprirle. Il problema è che se noi ci proviamo con un attrezzo un po' così di fortuna, succede esattamente questa cosa qua. Opla! Vedete? Si spacca l'ostrica e noi non riusciamo ad aprirla. E possiamo provarci in molti modi, ma ci va per forza un attrezzo appuntito per aprirla da questo lato qui. Quindi ci dobbiamo per forza, adesso ci provo ancora una volta, ma tanto non ci sono mai riuscito a aprirla da qua, vedete? Si, continua a frantumare. Dobbiamo per forza inventarci qualche altra cosa e aprirla invece dal lato. Guardate un po'. Velocizzo un po', così che non vi faccio perdere troppo tempo. Vedete che andando a provare, prima o poi riuscirete a far penetrare il coltello, e a quel punto lì tutto risulta molto più facile. Ci vuole un pochettino di pazienza, state attenti perché le ostriche tagliano, quindi se riuscite a farlo con dei guanti o con un panno, è meglio. Comunque una volta che siete riusciti a scalfire la superficie, vedete che qua si è anche un po' frantumata e si è aperta, a quel punto lì aprirle non sarà più un problema. Bene signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile per aprire le ostriche con strumenti di fortuna. Detto questo, io non voglio studiarvi oltre, per cui vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.